Il cambio al vertice al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia si è materializzato oggi nella sede centrale di Via Napoli con il passaggio di consegne tra Domenico De Pinto e Giulio Capuano. Quest'ultimo è il nuovo comandante provinciale, l'ingegner De Pinto, promosso dirigente superiore, lascia Foggia dopo tre anni per assumere la direzione del Comando di Potenza. Sono stati tre anni intensi, emozionanti, voi sapete che la città dove vivo io è Foggia, fare il comandante è una città dove si vive è difficile però anche saltante. Oggi come al solito, lo devo ricordare perché mi rimane nel cuore, un pensiero va sempre ad Antonio Ciccorelli. Al suo posto arriva l'architetto Capuano nel corpo dei Vigili del Fuoco dal 1997, aggregato a Napoli, nativo di Pozzuoli, fino a ieri ha guidato il Comando Provinciale di Brindisi, diretto per quattro anni prima del trasferimento a Foggia. Tanta esperienza nel suo lungo curriculum, primo dirigente dal 2020 e diverse emergenze nazionali, affrontate sempre in prima linea. Ho scelto Foggia perché è un comando prestigioso, perché ci sono queste criticità che stimolano ogni Vigile del Fuoco a dare sempre di più in delle circostanze che a volte non sono sempre semplici. Ma il nostro lavoro è fatto di sfide e quindi le accettiamo e ci mettiamo il massimo impegno. Io assicuro alla provincia di Brindisi, ai cittadini di Foggia e dei residenti, la massima disponibilità e il massimo impegno per garantire i compiti istituzionali. Una nomina che giunge in giorni particolari per il Comando Provinciale di Foggia, che solo pochi giorni fa ha pianto la morte del caporeparto Antonio Ciccorelli, disperso e ritrovato qualche ora dopo, privo di vita dopo un intervento di soccorso nei pressi di Torre Maggiore. Da oggi intanto il Comando dei Vigili del Fuoco volta pagina con l'auspicio di rinforzi per sopperire ad un organico sempre più ridotto all'osso.